Prendete uno spazio che trasuda storia, tradizione tra i più belli di tutto l'agro. Aggiungetevi la possibilità di degustare piatti della tradizione cucinati in maniera maniacale. Unitevi musica e possibilità di ballare. Avrete trovato l'occasione dove poter trascorrere magnifiche serate all'aperto. È la sagra del Cavatiello e Stoccafisso a Torello di Castel San Giorgio, location lo splendido anfiteatro Santa Barbara di Torello. Dal 1 al 4 agosto a curare l'organizzazione e l'associazione Santa Barbara, menù straordinario, cavatielli al sugo con Stoccafisso e quelli con bracciola di capra, Stoccafisso all'insalato oppure con patate locali, panini, il buonissimo mais fritto, vino del posto, dolci fatti in casa dal 1 al 4 agosto all'anfiteatro Santa Barbara a Torello di Castel San Giorgio, la 26esima edizione della sagra del Cavatiello e Stoccafisso.